Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori di bacia e non ricoglie. Ogni epoca ha avuto il suo diverso, nell'anteguera è toccato a tutti quelli che sappiamo che sono gli ebrei, i comunisti, gli zingari, portatori di handicap eccetera e quindi il parallelismo era se oggi c'è un elemento che porta a pensare che possa succedere qualcosa di analogo con profughi e migranti e dipende dall'analisi che si fa, dall'immagine che viene propagandata di questi perché anche all'epoca di cui parlavamo, qua c'è la mostra che lo fa vedere è stata veicolata un'immagine assolutamente monodirezionale, pericolosa. Questo è il parallelismo, queste sono le possibili e pericolose analogie tra la propaganda nazista che giustificava l'eliminazione totale dei disabili e la propaganda attuale di parte di politiche mass media sui migranti. C'è la illustra il professor Cernesi, uno dei relatori del dibattito promosso dall'Associazione Anmica Liceo Romagnosi nell'ambito del Festival Oltremondi. Anche oggi quello che vediamo è che se chiedessimo all'italiano medio di raccontarci qualcosa della vita di una delle persone che arriva da noi probabilmente non saprebbe cosa dire, cioè le uniche immagini sono legate a situazioni di emergenza eccetera. nel mio lavoro, che lavoro spesso con educatori, insegnanti eccetera, facendo formazione, se si chiede da dove vengono, perché, spesso la risposta non esiste. In determinate condizioni sociali, storiche, si è sempre determinato che c'era il diverso di turno che veniva perseguitato. Il diverso di turno è anche e soprattutto il disabile, accade oggi attraverso diritti che non sono ancora uguali per tutti ed esigibili allo stesso modo, ma di questo parleremo più avanti. È accaduto drammaticamente in passato, a partire dal regime nazista e dall'Action T4, un programma di eutanasia che mirava lo sterminio dei portatori di malattie mentali, di handicap, di epilessia, di disturbi neurologici, ma anche di storpi ciechi e invalidi. Uno dei luoghi dove ciò venne fu il castello di Artheim vicino all'Inz, in Austria. Uno dei sei centri dell'operazione T4, cioè uno dei sei centri dove sono stati eliminati fisicamente i disabili bambini e adulti che nell'ottica, diciamo così, dell'ideologia nazista, razzista, rappresentavano una macchia nella purezza della razza ariana e quindi dovevano essere, appunto, eliminati. A far da cornice a questo tema il convegno alla quarta edizione del Festival Oltremondi, abbiamo scoperto due mostre allestite a Romagnosi. Una si chiama Ricordiamo a cura di Anmice e Anfas, proprio sull'Action T4, e una intitolata Volti di Parma a cura dell'Onlus svoltare la città vista dai richiedenti asilo. Accolti qui. C'è uno sguardo rivolto al passato, ma anche uno sguardo rivolto al presente. Nel senso che, oltre a essere ricostruita l'operazione T4, c'è tutta una sezione dove viene fatto un percorso didattico, appunto, sulla disabilità oggi. E penso che questo sia molto importante perché, appunto, trasmette ai ragazzi e alle ragazze quello che è e che può essere oggi il significato di una società dell'inclusione, dell'integrazione e non, appunto, della discriminazione e della segregazione. Più che parlare di inclusione, è una condivisione, perché pensiamo che rispettare le differenze di ogni tipo, di ogni etnia, di ogni orientamento sessuale, perché anche di questo si parla, quando si parla di parallelismi, significa una condivisione, sia una condivisione di saperi e una condivisione di culture. Insieme, credo che possiamo costruire insieme una città bellissima, concreta, come abbiamo sognato noi tutti. Come spesso succede, il passato diventa prezioso per capire il presente e ragionare sul futuro. Anche le immagini, oltre alle parole, hanno un peso, una loro efficacia. Nel castello dell'orrore di Artheim e negli altri luoghi della follia nazista furono uccisi oltre 18.000 persone tra disabili, invalidi e malati mentali. Noi avevamo toccato con mano tutto questo un anno fa nel viaggio della memoria portato avanti dall'Istituto Storico della Resistenza di Parma con i ragazzi delle scuole superiori. Ve lo facciamo vedere. Siamo a Delcoven, siamo all'interno del castello di Artheim, che è stato uno dei sei campi di sterminio del progetto T4, il programma di eutanasia nazionalsocialista che mirava lo sterminio di tutti i malati di mente e dei disabili e dei portatori di handicap. In tutto qui morirono oltre 30.000 persone di diverse nazionalità. Artheim era un luogo dove un'altra volta una parte della società tedesca è stata isolata e annientata perché non corrispondevano al concetto ideologico, politico, economico del Tazzo Reich. Noi pensiamo a questi luoghi come una realtà sì, lontana, che però ha delle conseguenze che ancora oggi non sono completamente state scoperte, svelate e ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo che ieri non conoscevamo. Questa è stata considerata una delle principali fortezze rinascimentali austriache e pensate paradossalmente a cavallo tra 800 e 900 iniziò ad essere un luogo di cura per i bambini con malattie mentali che erano curati dalle suore. E' impressionato molto il fatto che trattassero i propri connazionali tedeschi in modo anche qui feroce. La società molto spesso tende anche ad emarginarli le persone meno fortunate. Il concetto nazionale socialista voleva creare la razza superiore come se ci fosse una razza tra gli uomini e quindi tutto quello che era dichiarato zavorra sociale perché elementi genetici inutili dovevano infatti essere isolati tramite la sterilizzazione in casi più gravi anche tramite la loro morte. Io penso che ci possano essere effettivamente dei meccanismi che vengono messi in atto sempre quando le società si confrontano con ciò che è diverso e indubbiamente oggi la diversità che la nostra società si trova ad affrontare è appunto una diversità rispetto a quello che è l'incontro con altre culture e purtroppo la storia ci insegna che molto spesso nel rapporto con la diversità si instaurano poi dei meccanismi che sono dei meccanismi di violenza e di segregazione e questo appunto davvero lo sguardo al passato può servirci anche per capire meglio il nostro presente. La storia insegna anche nel rapporto delle persone con la diversità ci spiega la professoressa Emanuella che a Dark Time lì con i ragazzi è stata più volte. Riparte proprio da qui dalla necessità di far capire ai più giovani cosa è successo nel passato per cambiare l'approccio attuale al diverso ad esempio allo straniero migrante e la scuola in questo può diventare uno strumento fondamentale. Dobbiamo ricordare che la scuola italiana è una delle poche in Europa e forse anche nel mondo che prevede appunto un percorso di integrazione dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze disabili e questo penso che sia un valore importante che va conservato. Del resto la diversità assume sempre sfaccettature diverse proprio nelle scuole e nei centri d'aggregazione giovanile con attività di sensibilizzazione è impegnata la neonata associazione La Tenda Rossa creata dall'incontro di educatori psicologi e operatori sanitari. Nasce appunto con lo scopo di sensibilizzare le persone verso temi attuali ma di cui si sa ancora poco e soprattutto di affrontare temi quali il femminile le problematiche che girano intorno alle donne e soprattutto in questo periodo ci stiamo focalizzando sulle donne richiedenti asilo. Torniamo ai diritti, quelli che ad esempio per i disabili difende ogni giorno un'associazione come l'ANNIC a Parma in via Stirone 4.000 iscritti, 100 volontari e servizi che vanno dalla sanità alla scuola dalla mobilità, le barriere architettoniche, dalla casa al lavoro. C'è l'altro problema che all'interno dell'uguaglianza ai diritti ci sono delle differenze cioè stesso diritto tra due persone che sono di altre culture può voler dire il declinarlo in un modo differente. In tema di diritti ed esigibilità degli stessi da parte di tutti cosa che al giorno d'oggi non sempre succede anche in paesi sviluppati come l'Italia il professor Cernesi ci ricorda che gli stessi diritti devono essere costruiti insieme con chi poi ne deve godere, ci fa un esempio. Il diritto è essere bambini e quindi non bisogna far lavorare i bambini. Allora se andiamo in Africa, gli africani dicono che hanno ottenuto delle modifiche in questo sia al non sfruttamento del bambino, no al non lavoro del bambino perché in quella cultura il bambino che lavora, cioè da una mano a prendere l'acqua da una mano a pilare il miglio eccetera, è considerato un valore e il bambino stesso chiede di poterlo fare. Torniamo a Parma, è una città inclusiva oggi? È una città inclusiva ma potrebbe esserlo molto di più, potrebbe esserlo se le persone fossero informate, informate nella giusta modalità e provando anche a volte a toccare con mano quello che vuol dire vivere certe situazioni e conoscere le persone di cui si parla. La situazione qua a Parma diciamo che sta migliorando, non posso dire che non stiamo facendo nulla perché ci sono tante istituzioni che stanno lavorando sia con cittadini e nuovi arrivi che abitano qui a Parma che hanno scelto Parma come la loro città per vivere. Le battaglie sono quotidiane anche e soprattutto per far rispettare i diritti, per far capire che in questo tutte le persone sono uguali ieri, oggi e domani. Grazie.